e dopo il messaggio alla alla nazione di Steven Zhang oppure dopo il messaggio registrato di Temptation Iceland ora ci sarà il falò di confronto tra gli azionisti che a sua volta registreranno un altro messaggio e lo invieranno a Steven Zhang Temptation Iceland la signora è entrata nei CTA io pensavo che come ho detto pensavo che fosse una figura comunque che facesse riferimento a Suning ma questa signora se guardi dove ha lavorato cosa fa per ora ti rio è una figura interessante anche se è una figura interessante studiatela guardate dove ha lavorato con chi ha lavorato con chi si era fusa con la banca guardate un po' di cose poi ditemi cosa ne pensate ma alla fine della fiera ragazzi parliamoci chiaro se il littero ha un miliardo e tre di debiti tra debiti e impegni finanziari ma gli fa una sega ma cosa gli fa cosa vuoi che siano un miliardo e tre di debiti per una società che ha l'azionista di maggior di maggioranza e non può fare conferimenti di capitale ma dov'è il problema ma dov'è il problema se addirittura Godman Sachs parla con il sole 24 ore e dice guarda rifinanziamento per Zhang è impossibile ci sarebbero tassi al 20 22 per cento cosa vuol dire tassi quasi raddoppiati avresti 70 milioni all'anno solo di interessi quindi ti dovresti vendere un barella all'anno solo per pagare gli interessi perché un'ana è partito per pagare gli interessi del prestito ci siamo capiti quindi non basta più un'ana serve un barella per vendere per pagare solo gli interessi in un'azienda perché l'inter è un'azienda che continua a perdere dai 7 agli 8 milioni al mese e se va bene qualora andasse bene ma cioè qui si sta parlando quasi di un mezzo miracolo tra due anni in queste condizioni arriverebbe a pareggio di bilancio e arrivando a pareggio ipotesi cioè così facendo l'ipotesi fra due anni arriveresti a pareggio di bilancio e cosa ci puoi pagare con la casa della società nulla nulla proclami senza risposte sono i proclami schiacceremo tutti schiacceremo tutto è il proclamo che Zanga ha fatto dopo la finale Champions League ripartiremo dai più forti e poi vende Onana Brozovic Skriniar e Lukaku vanno via sono i proclami tipo che è presentato che presentò Tonali presentò Kanté in Cina sui giornali è del Niter lui presentò Tonali Kanté i giocatori mai arrivati messi proiettato sul Duomo sono questi i problemi di Steven Zang e attenzione poi parliamo di calcio attenzione ragazzi non voglio mettere il dito nella piega e non ci voglio zuppare il biscotto redetemi perché altrimenti lo farei senza dirlo attenzione al messaggio brutto che sta passando eh attenzione perché qui si rischia di tornare indietro di 150 anni le donne possono votare bisogna iederli tra un po' nessuno può parlare tutti i siti si registra e tutti i muti attenzione a questo messaggio e questo è un messaggio bruttissimo a mio avviso anche per gli azionisti che stanno lì davanti a guardare un messaggio registrato ma che lavoro è messaggio che è passato qual è non ci devono essere domande tutti i siti ma qua non siamo in Cina non siamo in Corea qui attenzione a questo messaggio eh attenzione perché è passato un messaggio bruttissimo a mio avviso questa è una mia opinione per quello riguarda Morigno la partita contro la Roma cioè Morigno i giochetti e sta facendo Morigno questi giochetti con noi non funzionano perché questi giochetti li ha inventati quando eri all'inter sì già li facevi ma noi li conosciamo bene questi giochetti o non ci fai né caldo né freddo Morigno anzi ci fai solamente incazzare con queste supercazzole alla zanghe che tiri fuori anche perché tatticamente il signor Morigno che è un allenatore a cui io penso come milioni di interisti hanno voluto bene è un allenatore tatticamente fermo al 2010 soprattutto da quando i suoi collaboratori lo hanno mollato lui è rimasto lui è rimasto fermo al 2010 a livello tattico è rimasto solo un buon gestore di personalità e questo giuseppe Morigno perché se te guardi giocare la Roma fa ridere noi confronto sembriamo il Real Madrid e il Barcellona fusi insieme rispetto al gioco che fa la Roma e qualche giocatore buono ce l'ha la Roma eh non è che sono una banda di scappati di casa attenzione io però voglio dire una cosa attenzione a Miglio Verde attenzione a Lukaku perché quello lì è abituato a fare la vittima e quello lì è un personaggio che non troverà mai pace ed è capace di fare di tutto ti faccio un esempio ne parlavo prima a Michele te lo ricordi Zorou quando prese il pallone e fece sospendere la partita lì se Adriano non lo convince a continuare noi lo prendevamo in tasca attenzione a Lukaku attenzione perché potrebbe compromettere la partita lui io ve lo dico ragazzi attenzione a Miglio Verde attenzione trentamila fischietti tutto quello che vi pare io sono stato il primo quest'estate nel mio piccolo su YouTube a dire lascialo lì non lo devi prendere quando tutti voi sbavavate per riprendere Lukaku io sono stato il primo a dire lascialo perdere quello lì non va ripreso poi ci ha pensato lui da solo lavoro lui se l'ha già portato avanti con il lavoro mentre io ti dicevo lascialo perdere quello lì che è meglio perderlo che trovarlo perché quel poco di guadagno che avevi fatto a venderlo a 115 milioni te le sei ribruciati tutti con in quell'anno dove ti è costato circa 22 milioni tra ingaggio e prestito ti sei rimangiato tutti i soldi e avevi guadagnato vendendolo a 115 a Celsi ma di cosa vuoi ragionare ragazzi non lo so dove i cinese a Roma qualche giocatore infortunato spinazzola non si sa se gioca non gioca Renato Sanchez calciatore che a me piace molto bravo tiri da fuori ecco la Roma gioca tutta in contropiede faranno densità molta densità centro campo faranno tanti falli vedrete che loro giocheranno così soprattutto io per come conosco Mourinho soprattutto lui punterà tantissimo sui falli e la densità centro campo dove poi ne riparleremo quindi spinazzola smolling lo stesso di Balla hanno dei problemi ma Mourinho vedrete farà di tutto per recuperarli qualcuno lo farà giocare anche mezzo zoppo qualcuno di questi giocatori con personalità perché lui ha bisogno dei giocatori di personalità ragazzi siamo arrivati quasi 8000 iscritti vi invito a iscrivervi al canale a far iscrivere i vostri amici perché a breve ci divertiamo ciao grazie grazie grazie